La partenza d'Assangi era 2,20-38 gradi all'ombra, questo è il primo scoglio anche psicologico da affrontare per partire da andare a fare zona trash, questa è la fatica della spiglia. zona trash e parte da qui, la parte soprattutto da qui, la parte che abbiamo anche, sacchetto del sudice da buttare via, a pelle, una cosa private, giro, 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 no penso di te, direi a che cosa. Allora dopo 22 minuti di lungo viaggio si intravede la radio alle nostre spalle, dietro quelle i mozzi e la ventola della macchina a partire da ora, non ce la fa più, e questo è il civico della nostra radio, questo ci si è messo a noi, come vedete non viene via neanche a spiantare il ventilatorino inizio, tuttissimo in questo periodo, Massimo a concludere e improvvisamente spiega il terzo. Mi dicevi scusa? Mi tirerei il primo piano, comunque. No dai, non ce la fa neanche a fallo. Spieghiamo piuttosto come scriversi alzare il dito. Al forno, dai. I famosi tre passi. Allora, con questa simpaticissima scritta verde raffeggiante basta cliccarci sopra. Ma cosa c'è scritta su quella scritta? C'è scritta ovviamente Chat Forum, eccola qua. Zagli. 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 Vai su Chat Forum. Qui vediamo San Giradio, bello il nuovo marchio. Ok, vai, spiega un attimo. Vedi? Passano le linee. Questo lo fa, è l'effetto che fa quando riprendi il money. Dai, spingi. Sì. Allora, nickname. E ci si inventa un nickname di fantasia. Fantasia, eccetera eccetera. La password, si inventa anche la password. Poi la ripici perché tante volte uno lo dice, eh. Ti ricordi? Perché uno deve sognare la password. Comunque arriverà tutto alla vostra e-mail che inseriremo qui. e inseriremo qui. Dove c'è anche da ripetere la vostra e-mail e la ripetete. C'è qui. E poi si clicca su register. Questo tasto qui. Cosa succede? Una volta fatto questo, bisogna andare sulla propria e-mail, quella personale, e si riceve un... Una... Un link. Un link. Ecco. Da Forum Free. Dove... Praticamente... Si è stato dimenticato, eh. Questo link serve per... Per scaricare l'IVA. Per effettuare questa iscrizione. In modo che nessuno possa iscriversi al posto. Ma cosa sai perché tu? Siete voi. E fino a quando lo avete... Come si dice? Fino a quando lo avete... La mia ragazza mi ha lasciato, con i babbo ci ho leticato. Di questa radio sono malato, e allora canto forte San Giradio. Sa, 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 San Giradio.